Qual è la novità del momento? Siamo molto fortunati e ci riteniamo anche onorati di poter presentare il nostro progetto del banco prova alla conferenza VDI che si terrà a Monaco a settembre di quest'anno. Ma raccontaci un po' di cosa si occupa la tua start-up? La start-up fondamentalmente ha realizzato un banco prova per il test di ingranaggi in materiale polimerico. Fondamentalmente si tratta di prendere due ingranaggi, di farli ruotare insieme, di tenere frenato un ingranaggio rispetto all'altro, mettere tutto questo sistema in un forno, detto c'è la climatica, e portarli a rottura. Questo tipo di test è molto importante perché consente di caratterizzare il materiale, quindi di aiutare in maniera molto importante il progettista nel momento in cui deve dimensionare degli ingranaggi in materiale polimerico. Con quali aziende collaborate? Noi siamo un'azienda molto piccola, ci sono tante cose da fare e stiamo iniziando a fare rete con delle aziende che sono nel nostro circondario. In particolare stiamo iniziando a collaborare con la Unilab di Monselice, un bellissimo laboratorio industriale che si sta tra l'altro aiutando per quanto riguarda la parte di geometria, per quanto riguarda gli ingranaggi in materiale polimerico. Abbiamo delle future collaborazioni forse con le aziende ancora nazionali e internazionali, però per adesso preferisco non dire nulla. Da dove è nata l'idea? Io ho lavorato da 20 anni nel settore delle trasmissioni degli ingranaggi in materiale metallico. L'idea nasce dal fatto di poter abbinare la passione per questo studio di questi ingranaggi al fatto di poterla trasformare in un lavoro, in un business. Grazie. Grazie a voi.